Ragazzi, 5 secondi allo shop, 3, 2, 1, ooooooooh, una merda, yeeeeh, allora, ragazzi, è riuscito l'ali dell'amore, il ranger dell'amore, che cazzo vuoi? Vecchia ascia, su piccone, leader della squadra di coccole, mamma mia, che depressione, ragazzi, è uscito fiore del segno, ibi praticamente, ritmo a tamburi, su piccone, mettaplano frec volante, E poi ragazzi, se ci fate caso, ste skin assomigliano più che altro a quella nuova zona di bacino bucato, lì, ragazzi, sono dei tossici, poi ragazzi, c'è il livello di battaglia, che ovviamente vi fa aumentare i 10 di livello, e 500 PE, ragazzi, anche 500 PE stagioni, buono, ragazzi, c'è il piccone per un pelo, intensità Più veloce Commando E basta Uno shop in merda di questo non l'ho mai visto, ragazzi, io non shoppo nulla, noi ci vediamo al prossimo video shop